Senti, dico sul serio, ok? L'ho visto con i miei occhi. Oh, ma ti credo, ragazzo, ti credo. Raccontaci, com'è andata? Coraggio. Ok, beh, lo scorso venerdì sera stavo tornando a casa dal bar e una tizia ha iniziato ad avvicinarsi. Ok, barcollava, capisci, all'inizio pensavo fosse ubriaca. Oh, hey, ok, dici onestamente, quanto avevi bevuto? Credimi, mi ero solo fatto un drink. Come no? Dai, ascoltami, ok? Si è avvicinata e ho guardato meglio. Dovevi vederle gli occhi, il naso e tutta la faccia. Sembrava stesse marcendo. Sembrava un cadavere, un cadavere che cammina, amico. Ti ricorda mia moglie. Non avevo mai visto niente del genere, da allora non riesco a dormire. Coraggio, calmati, bello, rilassati. Ehi, devi essere forte. Non farti prendere dal panico, ok? Forse hai ragione. Se vai nel panico vicino a quelli, ti affondano i denti nella carne. Chiudono gli occhi. Avanti, sono più bello. Devo riposare. Oh merda! No. No. Cosa faccio? E adesso cosa faccio? Non c'è nessuno? Che strano. Ehi là? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è qualcosa che non va. Sta bene? Tenga duro. Torno subito. E sta felta. Agente, che succede? Stia indietro, non si avvicini. Ehi, ehi! Passalo, passalo, passalo! Non muoviti! O sparo! Merda! Ehi, che sta facendo? Ehi, che sta facendo? F***! F***! Non sparare! Stai tu! Stai bene? Sì, penso di sì. Grazie. Ringraziami dopo. Una volta salvi. Porca troia. Noi! F***! Stop! Sì! 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 Stop! Ma che succede? Non lo so. Forse alla centrale sapranno dirci qualcosa. Sei un poliziotto? Sì, Leon Kennedy. E tu? Claire. Claire Redfield. Vivi qui? No. Cerco mio fratello. È un poliziotto. Beh, per fortuna ti ho incontrata. Ormai non so più cosa aspettarmi. È un poliziotto. Grazie a tutti. Oh mio Dio, non posso crederci. La centrale di polizia è vicina. Ci diranno qualcosa. Sì, ma... se fossimo rimasti soli, gli unici sopravvissuti... Qualcuno è sopravvissuto. La città è grande. Non siamo soli. Dovremmo camminare da qui. Meglio correre. Sì, buona idea. Leona, torniamo indietro. Ma che... Porca roba. Le esci. Esci ora! Non riesco! Tieniti forte! Non riesco! No! Claire! Claire, stai bene? Sì! Tutto ok? Tu stai bene? Non posso stare qui, non è sicuro! Vai avanti! Ci vediamo alla centrale! Sì, va bene! Tutto questo è assurdo! Merda! Tutti! Si sono trasformati in un'altra! Ah, finalmente! La centrale! Ehi là! Nessuno! Ci deve essere qualcuno! On'operta! David! Marvin! Ci siete? C'è una via d'uscita! È scritto qui! Non dovete rinforzare! Corri da gli aeste! Devo trovarlo! Ok! F***! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non c'è l'altra. Esiste un padre. Non c'è l'altra. 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 Tenente, io non la lascerò qui. Questo è un ordine, recluta. Devi pensare a salvarti. Verrei con te, ma ti rallenterei. Ora... prendi questo. Non c'è l'altra. 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 aveva ragione. aveva ragione. non c'è l'altra. Non c'è l'altra. Sì, non c'è Ma Cristo santo... Cosa? Oh... Shhh... Wee... Tch-tch-tch-tch! Grazie a tutti. 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 My kick... Cos'è stato? Leon, sono Marvel. Vieni qui appena puoi. Stai bene, Marvin? Ho qualcosa da mostrarti. È importante. Ricevuto, arrivo subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il portile, dal piano di 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 sopra, alla est. Capito. Grazie, tenente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Claire. Claire, non arrabbi, non arrabbi. Claire, non arrabbi. ce la faremo. Grazie a tutti. 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 è ancora vivo. Grazie a tutti. 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 , 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 grazie a tutti. Sì, sì. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Così va sottoterra Bene, usciremo da qui Tenente Brana! Marvin! Dobbiamo andare Ehi, Marvin La portiamo subito in ospedale No, no, io Penso a salvarti Forza, l'aiuto Vai! Senta, possiamo ancora uscire insieme Serve solo... È troppo tardi Ci ho provato, Leon Ma ora è troppo tardi Non possiamo lasciarlo diffondere Ora tocca a te Adesso vai! Va bene Non la deluderò, Marvin Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.